Avete sentito? Sì Di solito gli appunti e tutte le quinte stanno in silenzio Grazie a tutti No, non lo facciamo aspettare Che paura Io non so proprio cosa dire Sono meglio quella frase Banana Banana Bana 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Pronto? Sì? Pronto? Vorrei ordinare 10 pizze margherite e 10 banane. Ma le banane le devo mettere sulle pizze o preferisce separate? Separate. Separate. Dove devo portare queste pizze con le banane? Al teatro nuovo di Treville. Ma non c'è un spettacolo adesso? Dopo. Ah, dopo. Allora mi deve dare anche l'orario. A che ora devo portare le pizze? Le 9.30. Sì, però se avete queste pause, mi sa capite le 11. Va bene, allora arriviamo con le pizze con le banane. Arrivederci, grazie. Pronto? Ci costruirete un palco? Eh, com'è? Ci costruirete un palco? Un palco? Eh, sì. Ah. Perché noi tra un po' dobbiamo fare uno spettacolo. Ah, tra quanto lo fate lo spettacolo? Mi scusi, vi sto per capire. Lo dobbiamo fare e inserlo domani. Domani, va bene. Allora io adesso capisco la pizze. Come lo vuole questo palco? Mi spieghi perché ci sono tanti palchi. Lo montiamo uguale a quello che c'è. Dove, dove? All'altro nuovo video. Ah, quindi lo smontiamo quello e ne montiamo un altro? Sì, uno uguale però è un altro. Ok. Cioè smontiamo quello che c'è o lo montiamo uguale? No, no. Lo montiamo uguale ma quello che c'è non lo smontate eh. Ah, ne montiamo uno sopra l'altro? No! Lo montate da un'altra parte. Ah, ok. Va bene, va bene. Ma ci vuole qualcosa di speciale sopra questo palco o lo lasciamo vuoto? Beh, veramente dovreste darci anche degli oggetti. No, degli oggetti no. No. Un portavustino. No, no, no. Non volevate mai una doccia? Una masca? No, abbiamo cambiato idea. Ah, ok. No, noi vogliamo delle tende e una… Delle tende per il pubblico che tra un po' ci stiamo a 4 mila, no? Un portatore, me lo prendiamo. Ok, va bene. Allora mi scusi un attimo, un attimo eh. Arrivo a rivederci, grazie! Ciao! 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 Pienito ! Leila! Leila! Mi porti una cazzonca! Pronto? Ciao! Ciao! Chi è? Non sento, però, la voce… Cos'è che devi ordinare? 10 pasticcini! Dieci pasticcini? Sono un po' pochi, però li faccio belli grandi. Questi buscarli? Sui dieci pasticcini? Per i miei compagni.. Ah, ma dove siete adesso? Scusi? Nel teatro no. Ah, ok, va bene, perché mi hanno già ordinato una pizza con le banane. Metto insieme anche i pasticcini? Va bene, allora arrivano insieme, nella stessa scatola. Arrivederci, grazie. Ma chi si ce l'ha? Ah, no, scusi, pronto, sì. Buongiorno. Dieci oggetti per lo spettacolo? Ah, guardi, il nostro negozio lo sta chiudendo, abbiamo poca roba il magazzino. Mi dica, vediamo che cosa possiamo fare per lei. Che ce l'abbiamo, ti chiesti? Poi, cosa serve? Un megafono. Ah, ce l'abbiamo, un megafono, sì, poi? Un telefono. Il telefono, guarda, lo sto usando adesso, sì, benissimo. Poi? Un pennello. Ce l'abbiamo, il pennello è sparito, qua c'era, prima, sì, poi? Coppa, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo? Basta? Caffettiera. Allora abbiamo, va bene, quindi in anticipo abbiamo finito tutto. Ah, ripeto, la caffettiera. La caffettiera, ecco cosa mancava, sì, allora glielo porto subito al teatro nuovo, vero? Non si fa finire. Sì, arrivederci, arrivederci, grazie. Sì, arrivederci. Ah, pronto, sì? Vuoi ordinare cinque pesci pagliaccio e due pesci punitori. Cinque pesci pagliaccio e due punitori. Guardi, abbiamo cinque pesci giocoglieri, vanno bene lo stesso? Sì. Ok, dove devo portarvi? Al teatro nuovo. Ah, insieme alle pizze? Sì. Ah, va bene, allora, tutti insieme, grazie, arrivederci. Ciao. Pronto? Buongiorno. Dieci vestiti. Meraviglia, ma sono tutti da uomo o da donna? Sì, faccio un mix, faccio cinque, cinque. Va bene? Bene, colori assortiti? Benissimo. Allora, io li riporto subito, i cinque vestiti da uomo e i cinque da donna. E poi scegliete voi, va bene? Grazie mille, allora arrivo subito, i vestiti. Ciao. Pronto? Ah, è occupato. Va bene, allora. Grazie, grazie mille. Grazie mille. E' un telefono vecchio, ma questo non si fa tanto bene. Sì, buonasera. Eh, buonasera. Buonasera. Ehm, vorrei ottenere 70 barri. E li abbiamo finite, li abbiamo usate tutte le pizze. Abbiamo... Eh? Che spazio che ho usato le pizze. Non lo so, non lo so, non lo so che è il tuo spettacolo al teatro nuovo, non so, magari lo conosce. Sì. Sì. Potrebbe essere utile? Quello è il tuo spettacolo. Mi dica. Voglio 46. 46, va bene. Allora, 46 di che colore? Perdi. Perdi. Arrivano subito. E' un attimo. Ah, me c'è il pronuncio. Non mancava qualche cosa. Mi dica. Anche 40 bibite con ghiaccio in seccato al sole. D'accordo, va bene. Arrivano subito. Grazie per l'ordinazione. E' stato molto molto gentile. Arrivederci a presto. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Buongiorno. 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 Grazie. 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 Salve a tutti telespettatori, sono qua per farvi vedere delle cose un po' strane. Allora, iniziamo qui. Iniziamo questa nuova, mi sembra un po' pieno, ma non lo è. Se guardate dentro, vedrete che è un telescopio, che va, se non si vedono le stelle, se non si vedono dovrete mettere le piai, mi dispiace. Poi proseguiamo... Con il caido. Con questo portafoglio, che non passo la mette da portafoglio, ma fa che... da tanguro. E si suona lì o più in Africa. Dovrete mettere a soppare che acustico, se non lo sentite. E scusatemi, adesso un mal di pancio. Vedete questo pomodoro speciale? No. Poi lo mettete in bocca e vi passa subito la rabbia. Lo vorreste provarlo, perché è un panacco della rabbia. Questo... è un laser. Voi lo indicate verso il cielo e fa esplodere i pianeti. Perché mi sa che si va, non ci sarà più, ve lo assicuro. E adesso, con questo, abbiamo finito il nostro spettacolo. Fateci un grande applauso. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.